Non solo cantanti nel Team Music Studio qui a Sanremo, ma anche coloro che vengono al festival per promuovere, come nel caso di Elena Cucci, che è qui a Sanremo per promuovere A casa tutti bene, giusto? Di Muccino. A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Ci ha dato la sua playlist, non parleremo del film, ma parleremo dei suoi gusti musicali. Mi sarei aspettato questa playlist dalla collega del film, Stefana Sandrelli, invece ce l'ha data Elena. Ma ho dei gusti un po' malinconici, lo ammetto. Poi oggi piove, quindi forse anche quello mi ha indotto a questa scelta. Siete curiosi? Ascoltatela su Team Music.